Benvenuti qui al Transportec, uno stand veramente importante per noi di Veico quest'anno perché presentiamo tutta la gamma rinnovata, un investimento importantissimo che ci è servito per fare tutto quello che ci avete chiesto, tutte le trazioni disponibili per tutte le necessità dei clienti, quindi abbiamo sviluppato sia dalla gamma leggera fino al veicolo pesante tutte le possibilità per la decarbonizzazione del settore, da leggero al pesante, gamma diesel attuale 100% certificata HVO, sempre da leggero al pesante tutti i veicoli sono compatibili con il biometano che ci permette già un trasporto a zero emissioni considerando il ciclo dal pozzo alla ruota, abbiamo anche tutta la gamma in elettrico, sempre da leggero al pesante, qui alle mie spalle abbiamo il veicolo pesante, 500 km di autonomia con 738 kWh di potenza installata, non dimentichiamoci che tutte queste sono trazioni alternative, per la decarbonizzazione dobbiamo sfruttare qualsiasi possibilità, sempre per una transizione energetica con i piedi per terra, quindi concreta, sostenibilità in tutte le sue forme, possiamo sfruttare il diesel di ultima generazione compatibile con il biocarburante HVO, possiamo sfruttare il biometano 100% compatibile in tutta la gamma i veicoli, possiamo sfruttare l'energia elettrica e nel futuro avremo anche i veicoli ad idrogeno.